Allora, dobbiamo incidere il voice-over per lo spot della scuola. Oh, che bello. Vado di là. Ok, grazie, Simone. Sono pronta. Voice art dubbing. Che posso dire? La scuola dove insegno doppiaggio da un paio di anni. Il corso professionale attore-doppiatore ha come obiettivo preparare i suoi iscritti a questo mestiere. Alla voice art dubbing, insegno spinta da quella che il testo dello spot definisce una implacabile determinazione. Nella mia vita mi sono impegnata tanto e mi sono presa tante soddisfazioni. Tanti film ho doppiato per arrivare fin qui. La mia esperienza è preziosa. Anche perché amo da matti insegnare questo lavoro. E qui alla voice art potrai scoprire la magia di quest'arte chiamata doppiaggio. Ho capito. Tu pensi che il doppiaggio non abbia niente a che vedere con te? Ma apri il tuo catalogo. E scegli, non lo so, quelle serie sottotitolate perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per guardare qualcosa di doppiato. Ma quello che non sai è che il doppiaggio non è solo parlare, non è copiare, non è imitare, è effettivamente recitare. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che la voice art dubbing offre corsi di doppiaggio e a sedi a Roma, Napoli, Bari e Catania. E offre corsi online attraverso una piattaforma dedicata. E poi il doppiaggio italiano è il migliore al mondo. Sono entrato in sala di doppiaggio per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose d'angolazione diverse. E il mondo appare diverso da qui dentro. Non vi ho convinti? Venite alla voice art dubbing. Coraggio! E proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva, anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando doppiate non considerate soltanto il copione, considerate quello che vedete. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto.